E' dentro. Grazie. Vieni, Oliva, a me. E tu chi è stato? Vieni, 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 vieni. Nino, finalmente sei uscito dalla galera. Ciao, e che piacere. Per me oggi è festa grande. Che offri? Ma devi offrire tu, no? Stavi già dentro. Offro io, cosa prendi? Io prendo un bel caffè. E io che prendo? Un bello schiaffo. Un bello schiaffo. Come io vi ho lo schiaffo e tu fai aglio? Siediti. Ti devo dare una bella notizia. Da oggi poi lavorerai per me. Ho una barca tutta mia. A queste me le chiami una buona notizia? Io che non ho lavorato mai. Ma non potevi rimanere un altro po' in galera. E tu non mi devi dire niente. Oh, c'è una bella notizia per te. Ma Rossello muove sempre bene. No, quella non ti vuoi più vedere. Non ti vuoi vedere nemmeno morto. Tu, mia mamma, che pensava l'altro giorno sempre a me. E invece... Perché tu stavi in galera. Gli facevi pena. E adesso? Gli fai schifo. Dai, smettila di dire queste cose. Dov'è? A scuola. Dove vai, viva? A scuola, no. A proposito, corri da Masanello che ti stai aspettando. Delinquente, te potevo notare il gastro. E ti cosa stai facendo? Sto pensando. Cosa stai pensando? Sto pensando dopo questa non mi fa una pisciata. Ma fallo a mare, no? Che ti costi? Vuoi di come sei intelligente? Di ciò avevo pensato. Grazie. Prego. Una scuola a mare. Aiuto! Aiuto! Lo posso notare! Aiutate il vostro, la nostra, mamma! Bambolo, preparati perché devi venire con me a Napoli. E che da Molo? Dobbiamo andare a fare un servizio. Ci vediamo fra un'ora al Molo. Dal Molo? Al Molo, credibile. Butta giù le mani perché sono marinato, sai? Ragazzi, ascoltate. Siete liberi, stai con quei signori. Scusate, per cortesia, sapete dove si trovano i tre ponti? Sì, più avanti, andate più avanti. Vico, appassa lì. Va bene, grazie. Tiama, tiama, certo. Guarda, cammino. Ma chi è il lato? Per favore, conosce la regina. Sì, devi andare più avanti. Uovani. Quanto vuoi. Cammino, tutto muore di fama quando vuoi, c'è stata lì. Butta giù le mani, sai? Ma che a me mi serve per... Mino, ma che è successo? Niente, andiamo. Oliva, da me ti facevi toccare con un dito e bottise lì a battere. Io non sono Oliva, sono i colline. C'è il vuoi. E non finisce qui, eh? Io invece voglio vedere quando finiscono i nostri schiaffi. Bumbolo, per farti passare la malinconia, bevi un morgetto di questo vino, oh? No, non bevo più. Ho fatto un fioritto. Strano. Ti pare strano? Io non bevo più un goccetto di vino finché non rivedo quel ragazzino. Mi cascasse la lingua. Ragazzi, rientriamo, perché fra poco qua ci sarà il diluvio. Forza, muovete. Io mi sono dimenticato pure l'ombrello. E dove vuoi quello non ascolto? Mi è venuta un'idea. A te? Ma perché pensi? Ogni tanto. Ma? Perché non portiamo il pescheriggio nostro e lo niscondiamo dentro alla stiva? Bravo, buono. Hai avuto un'ottima idea. Allora prendi il bambino e vai, no? E come faccio? È facile, no? Lo prendo in braccia e te lo porti via. Ammazza come sei intelligente. Non ci ho pensato.